Innanzitutto sono felicissimo di essere qui, è una società nuova creata da pochissimo, ma io essendo di qui vicino, vivendo da pochi chilometri da qui, conosco il paese di Nereto e so che c'è una grande tradizione calcistica, una grande voglia di fare calcio, e la squadra è molto seguita, quindi sono felici di essere qui e speriamo di far bene. Sì, è un campionato difficile dove ogni anno, specialmente nel Giron F, vengono allestite grandi squadre, quindi sicuramente sarà un campionato difficile, magari soprattutto per noi che siamo una società creata così da poco e comunque il nostro obiettivo sarà quello di salvarci il prima possibile e speriamo di farlo più presto. Le tue prime parole di tifosi di Nereto? Speriamo di far divertire tutti, di esprimere un buon calcio e magari di toglierci qualche bella soddisfazione.